buongiorno ragazzi mi raccomando per chi volesse sostenere il canale lo può fare gratis con un semplice click iscrivendosi ed attivando la campanellina ad oggi la live fatta ieri sera dal romagnolo nero azzurro che saluto che vi invito ad iscrivervi a quel bellissimo canale anche Gio Benzinero che è un amico anche se è milanista ad oggi è stata la live più seguita con più collegati le visual parlano chiaro chi si loda si sbroda gente parla di fuffa ma ad oggi la live di eristere del romagnolo una live improvvisata in un'ora è la ad ora è la più seguita su web andate a controllare le visual quello che conta è lo share non le chiacchiere e chi si loda si sbroda perché non ha caratteristiche per stare su YouTube se non quelle di prendere in giro le persone ma tra l'altro attenzione 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 perché eh la gazzetta lancia una bomba da Zanga o l'intero restabile marcia verso il riequilibrio cose che ho detto eh ieri tra l'altro nel video resta da sciogliere il nodo bond il fondo americano potrebbe estinguerlo anticipatamente dato che gli interessi impattano nelle casse del club per ventinove milioni annui a parte poi faremo una live con FNB con Alessandro G e con l'avvocato PR sulla situazione finanziaria perché altrimenti qui si fanno solo dei minestroni ma eh o tri potrebbe tranquillamente estinguere il bond eh da quello che scrivano eh anche perché tanto poi dopo questi soldi se li riprendono e portano il praticamente il bilancio a zero questo potrebbe essere un preludio di cessione anzi molto probabilmente lo è quindi questa è una notizia che ha del clamoroso che ha del clamoroso non sono bruscolini o tri molto probabilmente sta decidendo di estinguere il bond anche perché con delle garanzie avrebbe potuto scusate cambiando le garanzie avrebbe potuto ancora rimandarlo ma a quanto pare lo vogliono questo è un preludio di cessione lo devo scrivere nel video dopo il problema dell'inter non è Lautaro Martinez il problema dell'inter sono quelli che dovrebbero sostituire Lautaro Martinez e Tunam forse non ci siamo capiti Lautaro è un attaccante che si sacrifica molto eh quando sta bene ha un cambio direzione che manda tutti i difensori al bar eh tra l'altro lui è un attaccante che da tanto generoso che si spompa con i movimenti che fa tutto campo e spesso arriva anche stanco davanti alla porta è un attaccante atipico non è un cecchino queste sono cose dette e ridette ehm ma nelle partite spesso quella difficili se le inventa lui i gol quindi io non me la sento di criticarlo è sovrappeso c'ha quattro chili in più c'ha la pancera ragazzi è un giocatore con il baricentro basso bello tozzo come poteva essere e proprio il suo coetaneo Aguero quindi cioè non è quel giocatore longilineo eh capito come non lo so mh come Turam cioè lui è tozzo è balicentro basso forza tanta forza nelle gambe sterzate i cambi direzionali cioè capito e poi voglio dire una cosa voglio dire una cosa non vanno colpevolizzati non vanno colpevolizzati i giocatori non vanno colpevolizzati i giocatori e sono d'accordo allora però mettiamoci mettiamoci ripeto la parola mettiamoci tutti d'accordo perché Danfris fa un gol causa un rigore e fa una partita sontuosa fino all'ingresso di Scooby Doo fino a quando c'è Pavard Danfris è migliore in campo questo lo dovete andare a verificare se qualcuno di voi se l'è scordato Danfris va in difficoltà quando entra Scooby Doo entra Scooby Doo e non ci si capisce più nulla lì a livello difensivo e poi voglio dire una cosa chi fa il medico su YouTube purtroppo c'è la Loglu e Acerbi non ci sono domani nemmeno contro l'Empoli veniamo al Milan che io spero che il Milan eh riesca un attimino a far scendere eh dal settimo cielo questo Napoli che è primo solo ed esclusivamente grazie ad errori arbitrali a favore ed è primo solo ed esclusivamente perché ha trovato un calendario alquanto ridicolo perché ora a novembre è il mese della verità per i partiti europei di cosa stai ragionando di cosa ragioni il Milan ha solamente un problema che non sa difendere se se eh se se difende troppo compromette la partita una squadra molto strana ne parlavo anche ieri sera con Gio Benzinero che saluti non che saluto non ha giocatori capaci di addormentare la partita soprattutto con il giro palla quindi è una squadra votato all'attacco che ti attacca sempre e continuamente quindi a livello difensivo è debole Parrucca Parrucca cosa farà? Conte cosa farà? Parrucca cercherà di colpirli ai fianchi approfittando subito degli spiragli che verranno concessi quindi sarà una partita molto interessante che io seguirò eh secondo me è giusto che Napoli stia quarto quinto perché non si può vedere nel campionato italiano una squadra al primo posto che non gioca a calcio praticamente perché Napoli fa un altro sport in negativo non in positivo no spesso si dice a che la squadra la fa un altro sport perché è troppo forte Napoli fa un altro sport perché Napoli non fa due passaggi di fila è una squadra non ti ho senso offesa o nulla né contro Napoli né contro i tifosi del Napoli grande tifo per l'amor di Dio grande storia ma eh Napoli non fa due passaggi di fila di che di cosa stai ragionando fammi aprire Napoli non fa due passaggi Napoli una squadra inguardabile se ti guardi una partita del Napoli ti addormenti con parrucca e parrucca e parrucca ci crede perché tanto è sempre il solito gioco degli anni ottanta parrucca è lo stesso gioco e hai fatto lì a Tottenham dove ti hanno tirato i pomodori di Etnham a centrocampo e ripartenze quel gioco anni ottanta ormai è finito parrucca e lo vedremo stasera vediamo stasera se vinci oltre in Milano e poi vediamo soprattutto quanti punti farete a novembre ciao Inter mi raccomando per chi vuole sostenere il canale iscrizione like e campanellina ciao Inter BUM che vuole sostenere il canale è